Musica Musica Ancora una volta ben trovati, eccoci di nuovo insieme alle 10.45 di questo 27 agosto di un anno particolarmente affoso secondo molti, di un anno comunque molto diverso dal consueto proprio come il 2020 a causa di eventi imprevedibili, ma di un anno e di un'estate che può essere in ogni momento, in ogni giorno, in ogni settimana di grazia. Una giornata quella odierna in cui scopriremo anche la forza di una madre, ma innanzitutto andiamo a scoprire un bellissimo cielo azzurro, quello che oggi ci ha regalato la giornata appunto a San Giovanni Rotondo, ce l'ha regalata il sole, il creato e soprattutto adesso abbiamo per voi un dono, il dono di un collegamento già con un ospite. A te Anna Maria, buongiorno. Buongiorno Maria Pia, ben trovata. Io speravo il contrario, insomma, di avere una giornata un po' più fresca. Ho chiesto al Signore un po' di vento in questo momento nel collegamento e siamo stati accontentati. Allora, io sì, ho un ospite, non so se lo vedete già, è padre Calistopio degli Apostoli di Gesù Crocifisso, perché qui a San Giovanni Rotondo si sta svolgendo il quarto capitolo per loro e ne parleremo nel nostro secondo collegamento. Però lo voglio salutare e ve lo voglio far conoscere. Ben trovato, padre Calistopio. Grazie, Mariana, per questo invito di essere con voi questa mattinata. Grazie a lei. Io mi chiamo Anna Maria. Anna Maria. Perfetto. Allora, ci siamo, Maria Pia. Io non so se tu hai già qualche domanda, comunque noi ci ritroveremo nel secondo collegamento. Oggi so che c'è un bell'accadde oggi, non so se ne parlerai anche tu, una certa Mary Poppins. Mary Poppins l'abbiamo per oggi un po' accantonata, ma sicuramente è interessante, se vuoi chiederglielo, anche capire quanto le mamme e la loro preghiera, se i figli non hanno la fede, continuo anche nel carisma degli apostoli. Perché oggi è Santa Monica e noi stiamo per aprire proprio con lei il nostro programma. Allora, sì, vado subito. Quanto contano le mamme nelle vocazioni? Perché oggi è Santa Monica, una mamma importante di Sant'Agostino, ne parlerà la collega. A quanto hanno inciso le mamme? Nella sua vocazione, ma anche in chi conosce? Il compito della mamma per la vocazione sacerdotale, anche sulla vita consacrata, è fondamentale. Come Gesù è stato affiancato da Maria, anche noi sacerdoti consacrati dobbiamo essere affiancati dalle mamme, perché le mamme conoscono di più il nostro istinto, il tutto, la mamma, è molto importante. Poi si dice che le mamme hanno un posto sicuro in paradiso, le mamme dei sacerdoti, vero? Giustamente, giustamente, sì, sì. Allora, questa è un'anticipazione Maria Pia, quindi c'è insomma buone prospettive per tutte le mamme dei sacerdoti e di tante vocazioni. Benissimo, grazie Anna Maria. Nella seconda parte del programma, dunque, ascolteremo con grande interesse le altre cose che ci racconterà il tuo ospite. Del resto, per te, sempre un complimento speciale, perché comunque, appunto, sorprendi. Anche adesso mi hai preso un po' in contropiede con Mary Poppins, ma magari chiederò una mano a chi è dietro le quinte per scoprire qual era l'accadde oggi. No, tranquilla, te lo posso dire io, guarda, te lo posso dire io. Anzi, la possiamo cantare insieme, la canzone. 57 anni fa uscì proprio il film di Mary Poppins, sono passati 57 anni e tutti noi conosciamo quella famosa canzone, no? Basta un poco di zucchero e la pillola va giù. Tra l'altro, esatto, tra l'altro, 115 anni fa, perché lo vogliamo collegare a questo, nasceva Albert Bruce Sabin, noto come l'uomo della zolletta di zucchero, che ha cambiato il destino di molti bambini. È stato lui a sviluppare il vaccino contro la poliomelite e reso particolare dalla somministrazione per via orale, proprio attraverso una zolletta di zucchero. Noi in questo periodo si parla tanto di vaccini, vaccini sì, vaccini no. Questa potrebbe essere una bella proposta, ecco, deve scendere questo invito, insomma, a vaccinarsi. Poi andremo a completare l'accadde oggi anche con un grandissimo artista, Tiziano, che purtroppo è morto proprio quando infuriava la peste a Venezia. Ma andiamo per ordine, grazie di nuovo del doppio contributo ad Anna Maria, e oggi scopriamo chi era questa grande donna del IV secolo, che magari qualcuno penserà, ecco, l'anno per nepotismo voluta canonizzare, inserire nel calendario liturgico, perché suo figlio Sant'Agostino è stato talmente importante che magari di riflesso anche a lei è arrivata la gloria. E invece con Don Andrea Ciucci, oggi un santo del giorno, tutto speciale, da non perdere neanche in una sillaba. Santa Monica è famosa per essere la mamma di Sant'Agostino, perché in famiglia la vera credente era lei. Il marito doveva essere molto facile e comunque era profondamente contrario alla fede cristiana. E lei dedica molta parte della sua vita alla preghiera affinché il Signore converta meno suo figlio. Se conoscevi un po' la storia di Sant'Agostino sappiamo che è una vicenda in cui quest'uomo fa un grande itinerario intellettuale e di fede prima di arrivare a convertirsi a Milano e a farsi battezzare e diventare Sant'Agostino, che in qualche modo conosciamo e che ha segnato la storia della Chiesa d'Occidente. Ma la vera credente proprio era lei. Era lei che viveva con intensità, con passione, l'amicizia del Signore, da madre di famiglia come tante altre mamme. Quindi consoliamo tutte le mamme dicendo che anche Santa Monica ha dovuto tribolare non poco per il figlio. E non poco. E lo accompagna, lo porta. Perché attenzione, Monica e Agostino sono originari di Cartagine, c'è dello dire una Tunisia. Sono africani, ma vengono e quando Agostino viene in Italia, perché Roma e Milano erano le capitali dell'impero, erano lì i luoghi del centro del mondo dell'epoca, Monica l'accompagna a tal punto che poi Monica morirà in Italia, morirà a Ostia prima della partenza di Agostino. Quindi abbiamo una mamma che accompagna fisicamente e nella preghiera la storia e la conversione di questo figlio. È uno straordinario esempio di mamma, no? Una bella storia, sì. Una bella storia. Un grazie speciale a Maria Antonia Di Maggio. Avete visto, questo era uno stralcio di un programma che si chiama Le ricette dei Santi. Infatti poi vi proporremo anche la ricetta collegata a Santa Monica. E domani, naturalmente, avremo invece spazio per il suo celebre figlio, che si è fatto santo dopo un percorso intellettuale importantissimo, ma soprattutto spirituale. È il figlio di tante lacrime, è la citazione proprio del celeberrimo diario di Sant'Agostino. Ma questo è previsto per domani. Oggi invece abbiamo nella Cadde un personaggio importante come Tiziano Vecelio, nato a Pieve di Cadore. Quindi siamo nel cuore di montagne meravigliose, ormai conosciute in tutto il mondo. All'epoca certamente no, però era comunque di una famiglia abbastanza altolocata. E Tiziano ebbe una sorte diversa da tanti altri pittori italiani celeberrimi e importanti. Cioè nel corso della sua vita, ben presto, fu conteso. Fu conteso alle corti più importanti, era un ritrattista celeberrimo. Noi andiamo veloci perché purtroppo per motivi di diritti non possiamo farvi vedere i suoi capolavori. Ma io vi voglio raccomandare, appunto, proprio perché oggi è la data, ricordiamo, la data della sua morte, mentre infuriava la peste a Venezia il 27 agosto del 1576. Voglio raccomandarvi, se vi capita nella vostra città una mostra, ovviamente andate. Oppure, se andate a Venezia, non perdete la pala dell'assunta nella splendida chiesa di Santa Maria Gloriosa dei Frari. Celeberrima anche la chiesa, ma celebre anche l'episodio. Cioè i francescani avevano commissionato questa pala d'altare. Però lì per lì era talmente rivoluzionaria questa vergine che si sollevava veramente in cielo in un modo che sembrava fuori luogo rispetto ai canoni dell'epoca che inizialmente non la volevano neppure utilizzare questa pala. Ma prontamente cambiarono idea quando capirono che c'era la corsa a prenotarsi per avere appunto quel capolavoro. E quanti anni aveva Tiziano quando morì? Non lo sappiamo. Sicuramente però ebbe una vita lunghissima perché era nato verso la fine del decennio degli anni Ottanta del XV secolo. Quindi una gloria particolare di cui abbiamo voluto parlare nonostante appunto non possiamo farvi vedere le immagini. Andiamo invece subito anche alle buone notizie di oggi. Accade oggi, accadrà probabilmente anche domani. È accaduto ieri ancora atleti in primo piano, atleti che illustrano la nostra patria ma soprattutto insegnano a superare le difficoltà. Pioggia di successi per gli azzurri alle Paralimpiadi iniziate tre giorni fa a Tokyo. L'Italia è quinta con 11 medaglie, l'ultimo oro ieri nel nuoto. Sono complessivamente 4.521 gli atleti con disabilità o fisica o sensoriale o intellettiva. Rappresentano questi oltre 4.500 atleti i colori di ben 162 nazioni. E ovviamente il nome Paralimpiadi si intende proprio per indicare un evento che si svolge accanto alle Olimpiadi in parallelo, ma che ci sta anche più a cuore. E pensate che per il nostro paese, per la prima volta, sono più le donne che gli uomini, 63 a 52. E portabandiera è la schermitrice Bebevio e il nuotatore a fianco Federico Morlacchi. Tra l'altro nella delegazione azzurra c'è Francesca Porcellato, che ha già 51 anni ed è la più grande atleta paraplegica del mondo perché è arrivata all'undicesima Paralimpiade. È sia specialista in handbike che in sci nordico. E adesso, tratto dall'archivio di Padre Pio TV, vogliamo riscoprire una testimonianza particolare, cioè lo stralcio di un'intervista realizzata da Paola Russo a un grande personaggio, Laura Rampini, la prima paracadutista che appunto abbia voluto, nonostante la sua disabilità, provare questa ebrezza di gettarsi nel vuoto ben 164 volte. È una passione che avevo fin da piccola e quindi non è venuta dopo l'incidente. Una passione che non ho potuto realizzare perché comunque sia l'apprezzione dei genitori, uno sport estremo, mi sono sposata giovane, sono diventata mamma molto giovane e quindi poi fai un altro percorso. E ad un certo punto della mia vita ho deciso di tentare. Ho iniziato prima organizzando manifestazioni di lanci in tandem di ragazzi disabili in carrozzina di lanci in tandem, però a me non bastava più. Sentivo che volevo provare a diventare paracadutista ed ho trovato un istruttore che mi ha detto è un sogno quasi impossibile perché non esiste nessuno al mondo che pratica questo sport, uno sport estremo che richiede l'utilizzo di tutto il corpo. Però proviamo. Io ho voluto provare consapevole dell'improbabilità della riuscita, però ho preferito rischiare di trovarmi ad arrendermi perché non era possibile piuttosto che avere il rimpianto di non aver provato. E poi voglio precisare una cosa, il fatto di aver fatto paracadutismo è solamente la realizzazione di un sogno. Il messaggio che io ho sempre portato è quello di credere nei propri sogni perché altrimenti passa il messaggio quasi del supereroe e le persone che subiscono un trauma così importante non hanno bisogno di conoscere supereroi, perché per me il mio sogno era il paracadutismo, ma il messaggio che io porto non è quello del paracadutismo, perché quella è stata la realizzazione del mio sogno, ma la mia soddisfazione più grande è il progetto di Peramondo, quello di andare nei centri di riabilitazione, nelle unità spinali, a portare non l'esperienza del paracadutismo, ma a portare un messaggio di speranza e a dire che ragazzi, io come voi ho pianto, ho sofferto, mi sono arrabbiata, però vivo, perché si può vivere e per vivere bisogna continuare a sognare, qualunque sia il proprio sogno e quindi a progettare, a programmare il proprio futuro. E tutto il resto dell'intervista lo trovate naturalmente nel nostro canale YouTube, nella playlist di Addio Piacendo. Ma il sacrificio, il senso appunto che è una vittoria, la vittoria in una sfida qualunque, va costruita e in particolare quando si tratta di sport, sia per Olimpiadi, sia per Paralimpiadi, va costruita con l'allenamento, ecco, questo è un argomento di cui ci parla brevemente. Eravamo pronti per un altro contributo, ma naturalmente la diretta si impone e ci fa molto piacere. Di nuovo la linea ad Anna Maria Salvemini. Alle 11. Sì, scusami Maria Pia, l'ho pretesa quasi la linea perché ho incontrato, c'è una sorpresa, c'è una sorpresa qui, e ho incontrato per puro caso Padre Fortunato, direttamente da Pietrilcina. Ben trovato. Grazie, grazie. Sono felice di essere qui oggi a San Giovanni Rotondo e con me ci sono due sacerdoti indiani. Uno è Padre Thomas, l'altro è Padre Giustino. Voglio salutare i telespettatori perché attraverso Tele Padre Pio possono conoscere meglio San Pio e possono essere testimoni di San Pio. Oggi poi è una puntata internazionale, noi abbiamo qui anche chi arriva dalle Filippine, Padre Calisto, quindi continuiamo la nostra diretta. Intanto grazie, dovevamo approfittare di questa presenza. Prego. Prego e arrivederci e risentirci proprio da Pietrilcina. Grazie, con il cuore siamo con voi. Grazie a voi anche. A te Maria Pia ci risentiamo dopo gli spot. Grazie, un saluto a Padre Fortunato e adesso siamo pronti per la linea alla regia. e naturalmente è il piatto principale di queste nostre dirette quotidiane il fatto di collegarci con i luoghi di San Pio e in particolare di stare all'aperto con tante persone che sono lì appunto anche a raccontarci cose molto interessanti come quelle che già abbiamo sentito grazie agli ospiti di Anna Maria. A te di nuovo spero che tu abbia avuto il tempo di salutare Padre Fortunato anche da parte nostra mia e di tutto lo studio. Fatto, fatto e ha ricambiato. E allora come promesso vogliamo parlarvi degli Apostoli di Gesù Crocifisso perché si sta svolgendo in questi giorni il quarto capitolo è un istituto religioso maschile che ha iniziato ad esistere nel decennio degli scorsi anni 70. Il fondatore è Don Domenico La Bellarte e c'è un legame molto molto stretto con Padre Pio. Lo stesso Don Domenico lo ha conosciuto si è confessato da lui gli ha detto sarai sacerdote ma noi ovviamente approfittiamo della presenza di chi ne sa molto molto di più ed è come già vi ho fatto conoscere Padre Calisto Pio. Allora eccoci qua quarto capitolo perché a San Giovanni Rotondo è una domanda d'obbligo? Perché a San Giovanni Rotondo perché Don Domenico La Bellarte era il figlio spirituale di Padre Pio per ben 50 anni quindi il padre fondatore Don Domenico La Bellarte ha conosciuto da vicino il nostro santo il suo maestro Santo Padre Pio quindi il padre fondatore ha imparato da lui come valorizzare il sacrificio la Santa Messa il perdono la confessione e soprattutto la parola di Dio la Sacra Scrittura quindi Padre Pio per Don Domenico una guida un riferimento spirituale e anche una forza ad andare avanti quindi da lui arrivava proprio l'incoraggiamento e tanti tanti consigli che lo hanno visto insieme per quanti anni li hanno visti? per 50 anni sì è stato un contatto stretto proprio perché il padre fondatore abitava qua stava sempre con Padre Pio è stato anche Padre Pio a riscoprire la sua vocazione sacerdotale perché Don Domenico stava in crisi della sua vita cioè la sua consacrazione a Dio non era sicuro e poi con l'affermazione del Santo Padre Pio ha confermato che lui ha questa vocazione sacerdotale e sono belle queste notizie anche da riscoprire per chi già le conosce si sta svolgendo in via telematica anche quindi non per tutti quelli che sono in presenza c'è la possibilità di raggiungerli anche a distanza questo quarto capitolo quali sono le tematiche che avete scelto e perché? le tematiche sono sulla vita fraterna cioè la vita in comunità perché ciascun fratello è un tesoro da conservare da curare da cautelare da stare con loro come un dono un dono da Dio che crescono nella comunità cosa proponete alle giovani vocazioni e comunque qual è il vostro carisma che poi viene fuori sicuramente anche davanti a chi magari fa questa scelta la nostra carisma è di far conoscere Gesù il crucifisso di farlo amare con profondità anche di far conoscere al popolo alla chiesa alle persone che magari non riescono a scoprire la loro vocazione per arrivare alla santità ai giovani è molto importante di dare un po' il tempo lo spazio di fare il discernimento e noi siamo disponibili ad accompagnarli a questo cammino spirituale verso la vita consacrata quindi ci vuole proprio il tempo il silenzio la preghiera la santa messa è un'attività approfondita che noi siamo disponibili ad accompagnarli nel futuro bello così perché non ci si deve mai sentire soli le missioni nel mondo degli apostoli di Gesù crucifisso fuori onda mi diceva che ce ne sono tante sparse in tutto il mondo allora abbiamo le nostre missioni fuori Italia in Polonia Cestocova che si chiama il montagna del perdono che è abbastanza grande il santuario di Santo Padre Pio che è stato costruito da un po' e poi abbiamo la comunità a Bangui Centro Africa e poi abbiamo la scuola per i bambini poveri abbiamo anche poliambulatorio e abbiamo l'ospedale scuola vocazionali in Mukamba in Congo per aiutare i poveri ecco e grazie all'aiuto degli italiani che hanno veramente dato tutto ci hanno dato il cuore cioè abbiamo trovato la provvedenza che l'Italia ha un cuore grande per aiutare i bisognosi mai spegnere i riflettori su queste realtà noi siamo felici per questo padre Calisto so che ha perché chi ha mediato questo nostro incontro è padre Michele Momoli abbiamo seguito la sua ordinazione sacerdotale proprio qui a San Giovanni Rotondo qualche anno fa era insieme a padre Massimo padre Michele mi diceva che ha una passione per la radio e per la televisione vero? è vero adesso mentre stanno facendo il capitolo sono il cameraman lì quel capitolo ho lasciato la camera acceso e adesso fra un po' questo intervento ritorno alla sede per continuare il mio compito noi ne approfitteremo la prossima volta che torna a San Giovanni Rotondo anche per averla ospite padre Calisto intanto grazie grazie un giovane che adesso è collegato e si innamora degli apostoli di Gesù crocifisso a chi si deve rivolgere per essere seguito guidato? abbiamo la nostra comunità a Valenzano che possono contattarci abbiamo il sito facebook tramite padre Michele padre Gerardo che i giovani che possono contattarci siete liberi a dare questa disponibilità vostra anche la nostra con con la grazia di Dio e con il tempo e lo spazio e la preghiera grazie padre Calisto Maria Pia tu hai domande? noi abbiamo concluso lo lasceremo andare alla camera alla telecamera perché l'ha lasciata accesa lì certo mi dispiace se proprio non c'è neppure qualche secondo era semplicemente per capire quel bellissimo colore bianco a cosa è dovuto c'è un motivo particolare perché questo abito è bianco allora abito particolare il nero noi mettiamo indossiamo qua in Italia perché non siamo in missione abito bianco il segno della nostra missione fuori fuori Italia quindi un simbolo della nostra consacrazione il simbolo del essere missionari grazie molto importante soddisfatta molto solare e poi d'estate insomma il bianco va bene molto bello molto importante perché appunto noi avevamo notato sempre il colore nero e poi questo riferimento ai padri bianchi dell'Africa mi dà modo anche di ritornare a Cartagine di ritornare a Santa Monica grazie Anna Maria grazie davvero a te e a tutti i tuoi ospiti grazie a te Maria Pia e come vi dicevo ho adesso anche il tempo di riscoprire che cosa possiamo mettere a tavola quali sono gli ingredienti i cibi più interessanti proprio in riferimento a un'epoca apparentemente così lontana da noi ma siamo naturalmente sempre sulle coste del mare nostro e troverete sicuramente ispirazione anche voi da questa ricetta di Santa Monica di nuovo con Don Andrea Ciucci e con la nostra Maria Antonia gli ingredienti che serviranno per preparare questa farinata cartaginese che è un dolce lo ricordiamo più o meno poi capiremo perché più o meno ecco gli ingredienti sono 150 grammi di farina bianca 450 grammi di ricotta 50 grammi di miele un uovo e 350 grammi di acqua quindi fin qui sembra tutto semplice non sembra particolarmente difficoltoso come si prepara? la ricetta è una ricetta antichissima e che noi conosciamo perché è riportata in un testo antico romano di Catone il De Agricola dove dà la ricetta del Puls Cartaginensis esattamente il luogo da dove venivano Monica e Agostino la ricetta appare nella vicenda di Monica perché è proprio il figlio Agostino che nelle sue confessioni racconta di un episodio era abbastanza non tradizionale presso i romani o comunque le popolazioni pagane dell'epoca quello di portare del cibo sulle tombe dei morti e anzi mangiare fare dei banchetti sulle tombe dei morti e Monica pur essendo cristiana e pur avendo molto temperato questa tradizione anche lei quando era già in Italia faceva questa cosa e quindi portava questa farinata sulla tomba dei morti e lì si mangiava ma era un gesto pagano e così capita che il vescovo che viene a sapere questa cosa Sant'Ambrogio di Milano interviene e dice no attenzione questo è un gesto pagano noi crediamo nella risurrezione dei morti non possiamo più compiere questa cosa e Monica accetta questo cambiamento e seppure un po' a malincuore perché era una delle cose che in qualche modo segnavano la sua storia la sua vicenda in realtà rinuncia a questa tradizione di portare il cibo sui morti questo Puls Cartaginesis come si fa? Si prende la farina la si scioglie nell'acqua poi si prende la ricotta bella fresca e la si mescola e la si amalgama insieme con questa farina e acqua poi si aggiunge l'uovo e se la vogliamo fare diventare una base per un dolce perché fondamentalmente questa farinata è una base se vogliamo usarla per un dolce possiamo usare il miele che era il dolcificante che all'epoca si utilizzava ottenuto un impasto molto bello omogeneo lo si può mettere o in una grande forma da forno ma io lo consiglio di farlo in quattro monoporzioni dove hanno molti modi anche i tempi di cottura sono più veloci e la si fa cuocere in forno per circa mezz'ora poi si sforma la si lascia raffreddare e la si può utilizzare come base arricchita poi non so da marmellata una composta di frutta uno sciroppo perché diciamo la base è una base dolce piana neutra che può essere arricchita se invece uno non lo vuole usare come dolce ma lo vuole usare come una specie di polenta bianca da associare magari a un buono stufato di carne bello profumato bisognerà avere l'accortezza di non mettere il miele dolcificante ma un pizzico di sale e magari un profumo di pepe quindi doppia funzione dolce e salato quindi se volete appunto utilizzarla come dessert per scoprire i sapori di Santa Monica di questa farinata cartaginese aggiungeteci nell'impasto il miele e arricchitela poi con della frutta sciroppata piuttosto che altri sciroppi avrà più o meno la consistenza di una panna cotta di quella che noi chiamiamo di un budino di una panna cotta da sapore abbastanza neutro se invece al contrario volete usarla come diciamo base salata togliete il miele e tenetela appunto tipo una polenta bianca che accompagna poi altri piatti ripetiamo gli ingredienti per preparare la farinata che sono 150 grammi di farina bianca 450 grammi di ricotta 50 grammi di miele un uovo 350 grammi di acqua semplice e fa venire la colina in bocca ma noi adesso parliamo invece della chiusura della 71esima settimana liturgica nazionale che si è svolta a Cremona il vescovo Claudio Maniago presidente del centro azione liturgica ha dato appuntamento a Salerno per il prossimo anno e qui state vedendo il sito dove trovate tanti dettagli tanti concetti importanti per tutti non solo per gli specialisti ma noi più tardi vivremo la liturgia a partire dalle 11 e 30 ma adesso invece ritorniamo a parlare di cosa significa sapersi sacrificare e allenarsi per diventare atleti e lo facciamo grazie al nostro archivio ho persone che anche a 60 65 ho un signore che ne ha una settantina 69 70 e se lo vedi adesso è a sciare allunga la vita lo sport è partito così per scherzo con la palestra non manca una lezione e sta benissimo io consiglio sempre da cominciare sin da piccoli sempre con attività comunque adatte fino ad arrivare alla ginnastica dolce che è quella degli ottantenni 90 anni vogliamo spiegherci io avevo a Perugia un lo chiamiamo vecchietto anche se vecchietto diversamente giovane direbbe qualcuno aveva 83 anni aveva avuto tre infarti e lui a 83 anni continuava a fare maratone o mezzo maratone lui correva correva e faceva palestra io avevo paura per lui perché dicevo vacci piano dice Michele non ti preoccupare che io sto bene poi preferisco morire con l'attività sportiva che non è straiato sul letto quindi sono passati già 15 anni da quando non lo vedo più non l'ho più visto perché mi sono trasferito però mi è rimasto qui e dovrebbe essere esempio per tutti sì attività fisica attività fisica a qualsiasi età non bisogna avere paura se poi ci affidiamo persone che comunque ci sanno far fare attività fisica è importantissimo è importante l'attività fisica non deve essere vista come una fatica che purtroppo lo è è un lavoro a tutti gli effetti anche per chi viene e quell'oretta e mezza se si lavora bene si esce distrutti quindi uno dice lavoro tutte le giornate riendere in palestra rilavorare distruggermi non sempre si trovano le forze quindi se trovi la persona motivata di fronte a te che ti spinge a fare attività fisica molte volte è un input che ti aiuta si viene in palestra per stare bene non solo con il corpo ma anche con lo spirito sì la gente viene in palestra anche un po' per dimenticare quindi per lasciare un po' di problemi a casa problemi familiari ci sono tante problematiche che l'istruttore deve anche capire oggigiorno deve capire le problematiche ce ne sono tante quindi la persona che viene in palestra ha bisogno di scaricare con l'attività fisica di ricaricarsi di ricaricarsi di di svuotare un po' anche di confidarsi se trova la persona di fronte a sé che è disposta ad ascoltare la cosa che dicono è proprio questo quello che dice noi veniamo sentiamo l'odore del caffè appena entriamo a volte anche l'odore del sudore però entriamo troviamo tua madre che comunque la mattina ci ospita c'è tuo padre che ogni tanto quindi sei tu il tuo fratello siamo io e mio fratello che gestiamo si diventa anche un po' dipendenti dallo sport dal movimento si diventa fissati perché comunque per ottenere dei bei risultati oltre all'allenamento sappiamo che il 70 l'80% l'alimentazione quindi per chi si vuole allenare seguire l'alimentazione è la parte principale quindi bisogna per forza abbinare le due cose sì un buon allenamento non seguito da una buona alimentazione si hanno risultati scarsi quindi trovare una pasticceria fuori dalla palestra non è proprio il massimo no no pasticceria no però anche se ogni tanto un dolcetto non fa male perché la testa ha bisogno anche dei suoi compensi e questo era amici Biancofiore che ringraziamo adesso è il momento di dare la linea alla regina